Benvenuti alla nuova puntata della rubrica La vostra opinione conta. Questa volta intervisteremo una ragazza di solo 17 anni che lo scorso anno ha scritto un libro sui disturbi specifici di apprendimento e l'ha scritto perché lei ne soffre da quando è nata. Buonasera Sofia Erzel, vuole spiegarci cortesemente di quali disturbi lei soffre esattamente? Allora esattamente tra i disturbi della DSA ho la dislessia e la discalcolia e sicuramente sono i due principali e ho avuto molte difficoltà ad accettare questa cosa ma sicuramente con i mezzi e con l'aiuto della mia famiglia sono riuscita a superare tutto e ora ne vado anche fiera. Quando si è accorta di soffrire di disturbi specifici di apprendimento? Allora in realtà ho avuto sempre delle difficoltà soprattutto alle elementari in quel periodo ho sofferto veramente tanto però l'ho scoperto soltanto al termine della seconda media. I tuoi docenti, i tuoi insegnanti si sono accorti di questi tuoi disturbi oppure non hanno capito nulla? No, non se ne sono mai accorti né i docenti elementari né quelli delle medie. Io a un certo punto della mia vita sono arrivata a dire a mia mamma mamma ho difficoltà a fare questo, questo e questo e allora lei ha deciso di portarmi da un professionista e lì ho scoperto appunto di essere dislessica e discalculica. I tuoi compagni di classe soprattutto nella scuola primaria come si comportavano nei tuoi confronti? Ti prendevano in giro, ti sostenevano, ti aiutavano o non capivano nulla neanche loro? Allora le elementari si è piccoli quindi ovviamente avevo difficoltà magari a rapportarmi con i miei amici soprattutto nella lettura perché vedevo che loro andavano avanti, sapevano leggere io avevo molte difficoltà nel calcolo, nella lettura, nella scrittura ovviamente la presa in giro c'è sempre stata e anche altre difficoltà però ovviamente il problema non sono stati i compagni ma più che altro i professori. Sofia lo scorso anno, nel 2019, ha deciso di scrivere un libro tecnico nel quale racconta come si superano i disturbi specifici di apprendimento ed è un libro non destinato ai ragazzi come lei ma addirittura destinato ai docenti. Allora le chiediamo, cara Sofia, come mai ti è venuta questa idea di scrivere questo libro per dare queste indicazioni? Allora io appunto avendo avuto molte difficoltà e non sono stata compresa subito dagli insegnanti o intanto meno dagli altri compagni o ragazzi in generale quindi ho deciso di scrivere questo libro dove la mia storia è semplicemente da sfondo per far capire ai vari genitori, insegnanti e ragazzi di SA o meno che possono appunto fare tutto semplicemente hanno bisogno dei mezzi giusti quindi volevo appunto che tutti gli insegnanti e tutti i genitori sapessero rapportarsi con i ragazzi di SA. E quanto ha contato l'aiuto di tua mamma in questa storia? Sì, l'aiuto di mia mamma è stato fondamentale perché mia mamma è sempre stata il mio supporto la mia spalla e in questo progetto ho a maggior ragione. Cara Sofia, come si vive con il DSA? Come si va avanti? Come si studia? Quali procedure si vengono seguite? Lei frequenta che tipo di istituto? Il liceo classico psicopedagogico è anche definito delle scienze umane. E come si superano questi disturbi specifici di apprendimento? La dislessia? La discalculia? Come si superano? Dalla terza media ho trovato i miei mezzi per studiare, i miei metodi e quindi riesco tranquillamente a svolgere tutto. Certo ci metto molto più tempo, molta più fatica, però riesco a fare tranquillamente quello che fanno i miei compagni con i miei mezzi. Quindi tranquillamente se uno riesce ad essere appoggiato riesce ad arrivare ovunque. Sicuramente l'aiuto degli insegnanti che ho avuto nel tempo, quelli che mi hanno saputo aiutare e le ripetizioni che ho fatto mi hanno aiutato a trovare il mio metro di studio. Quindi posso assolutamente dire di essere alla pari degli altri. Che cosa pensa che sia necessario dire ai ragazzi che sono dislessici? Sicuramente a tutti i ragazzi di SA in generale, secondo me è necessario dirgli che anche se vogliono abbattersi, perché pensano di non farcela, di non essere abbastanza, se vengono criticati, demoralizzati, di andare avanti per la loro strada. Se il loro obiettivo è uno, devono raggiungerlo, anche se ci metto più tempo, anche se hanno bisogno di mezzi compensativi, possono assolutamente farcela, quindi di non farsi abbattere da nessuno. Ha avuto dei riconoscimenti per quanto riguarda la pubblicazione di questo libro? Allora, a livello morale, molti insegnanti, molti genitori mi hanno anche detto grazie, grazie a te sono uscita a comprendere mio figlio, sono uscita a comprendere il mio alunno e i ragazzi stessi che mi hanno detto grazie, grazie a te ho trovato la forza di continuare a scuola, ho avuto la forza di scrivermi all'università. Quindi assolutamente sono stati grandi successi per me e poi insieme al mio libro sono stata la prima d'eccellenza italiana e questo è stato una grande sorpresa per me. Adesso diamo la parola ad Alexandra Senise, la mamma di Sofia Herzl. Buonasera Alessandra. Buonasera. Allora, quanto ha contato il suo aiuto nella scrittura del libro di sua figlia? Allora, sulla scrittura assolutamente nulla perché Sofia è arrivata con il computer e chiedendomi di leggere quello che aveva scritto, io ero convinta che avesse scritto una storia romanzata, quindi mi sono messa lì a leggerlo. Invece man mano che lo leggevo rimanevo sempre più stupita perché i nostri figli ci stupiscono a un certo punto e tra le lacrime e l'emozione ho detto Sofia ma è un capolavoro, questa cosa va pubblicata assolutamente per il bene proprio di chi soffre dello stesso disturbo e anche per i genitori e per i docenti. Un'altra domanda, com'è che voi genitori non vi siete accorti fino ad arrivare alla seconda media, cioè all'età di 11 anni, 12 anni di vostra figlia, del fatto che la ragazza soffrisse di TCA, della dislessia? Allora, le posso dare per certo che noi genitori ce ne siamo accorti addirittura dall'asilo perché io vedevo che colorava fuori dagli spazi, ma ogni qual volta io andavo a parlare con una maestra dell'asilo, con la maestra degli elementari o addirittura con i professori della prima media, sono stata sempre tacciata per una persona esagerata e ognuno ha i suoi tempi e Sofia è esuberante, quindi non colora negli spazi all'asilo perché era esuberante, non era attenta, non si impegnava agli elementari e alle medie è uguale, stessa cosa, finché poverina lei stessa ha detto mamma io non arrivo a fare quello che fanno gli altri, quindi io sento di avere delle difficoltà, mi puoi per favore? Quindi avallata anche dal fatto che comunque io sostenevo questa cosa sin da piccolina siamo andati finalmente da qualcuno, ma mi hanno sempre scoraggiato, sia le maestre che i professori mi hanno sempre scoraggiato dal farle fare dei controlli perché secondo loro non c'era assolutamente nessun problema, era solo non attenta, non aveva voglia di impegnarsi, si distraeva facilmente, cosa che non è così perché attualmente è la più brava della classe, studia tantissimo, quindi non ha mai avuto questo di problema. Bene, salutiamo Sofia e Alexandra che ci hanno fornito questa importante e interessante testimonianza e indichiamo a tutti i lettori che volessero partecipare a questa rubrica La vostra opinione conta di mandare una mail a I lettori ci scrivono chiocciolatecnica dellascuola.it indicando l'argomento di cui vogliono parlare. Grazie, alla prossima volta. Grazie.